L'Unione Revisore La Tua Buonasera a tutti. Io ho pensato di cominciare questo intervento con una domanda. Avete mai sentito parlare dei dati non collegati? e i dati non collegati sono i dati che descrivono un evento ma non dicono a chi è capitato ad esempio una visita medica, dicono tutto su quello che è stato fatto durante la visita ma non c'è l'identificativo del paziente e nei dati collegati invece c'è un identificativo che può essere un identificativo anonimo magari ma che comunque consente poi di riferire i vari eventi alla stessa persona e la distinzione è importante perché tantissime decisioni che ci riguardano ad esempio, faccio qualche esempio, se uno ha una patologia all'anca la decisione se ricorrono a una protesi se qualcuno cerca casa la decisione di quanto la banca deve concedere il mutuo e a che condizioni o magari anche se qualcuno è condannato per un reato lieve se è il caso o no di proporre l'affidamento ai servizi sociali questo tipo di decisioni che prima erano prese qualitativamente da persone adesso sono sempre più affiancate da dei modelli e questi modelli sono modelli di intelligenza artificiale è un modo così un po' pomposo per dire che sono modelli che imparano sulla base di esempi gli si presentano degli esempi di situazioni che sono avvenute nel passato di decisioni buone o cattive che sono state prese nel passato e il modello impara a generalizzare partendo dagli esempi e quindi poi a suggerire una decisione che si spera sia migliore di quella che verrebbe presa in modo quantitativo ecco, una cosa che si potrebbe domandare è se questi modelli che sono quindi addestrati sulla base di esempi di dati debbano usare dati collegati oppure dati non collegati il problema del dato collegato è che è vero che può essere anonimo c'è un identificatore anonimo dentro ma chi conosce un po' il contesto in cui il dato è stato prelevato tante volte riesce a risalire all'identità della persona che in qualche modo è oggetto di quella rilevazione e quindi non voglio rispondere alla domanda adesso vorrei raccontarvi invece una storia perché la storia illustra un pochino la risposta alla domanda la storia è cominciata nel gennaio del 2020 io ero da Abu Dhabi bloccato lì perché con la pandemia non si poteva viaggiare e sono stato coinvolto dalla mia università in un progetto che dovevamo proporre sulla stima appunto, come si diceva poco fa sulla stima dell'impatto del contagio ci veniva chiesto una previsione a due settimane a tre settimane, a quattro settimane di quanti sarebbero state le persone contagiate e allora noi ci abbiamo pensato un attimo e ci è venuta l'idea di appunto partire dai dati i dati di posizione le cosiddette tracce digitali che oggi non le lasciano le persone ma le lasciano i telefonini attenzione vorrei chiarire non sono i dati di posizione dei GPS che usiamo nelle mappe tutti noi li usiamo perché quelli sono calcolati sul telefonino e quindi per poterli rendere noti bisogna che il padrone del telefonino autorizzi e quindi per definizione si tratta di dati parziali no no, noi parliamo proprio di quei dati che la rete cellulare sa su di noi sa a quale cella siamo collegati anzi per la verità oggi come oggi non sono proprio celle sanno un po' meglio sanno la nostra posizione all'interno di un pixel un quadratino all'interno di una cella che può avere qualche decina di metri di lato ecco quelle che vedete dietro le mie spalle sono proprio queste tracce digitali che sono presenti nei database negli archivi dei gestori dei telefonini delle reti cellulare e allora noi abbiamo detto mettiamo insieme queste tracce digitali che sono complete riguardano tutti i telefoni di tutti negli Emirati ci sono soltanto due principali operatori di rete cellulare mettiamo insieme questi dati con altri due elementi un elemento sono le mappe noi sappiamo questi quadratini sappiamo questi quadratini dove sono sappiamo questi quadratini a quali zone della città corrispondono qui dietro le mie spalle vedete adesso è divisa in questi pixel in questi quadratini la città di Abu Dhabi è una città fatta di isole sul mare per ciascun quadratino so anche se è all'aperto se è al chiuso so se è parte di un supermercato o di una casa di abitazione so cosa ci succede e quindi in qualche maniera con questo elemento io posso tarare una formula empirica una formula si chiama formula di Brooks Brooks era il direttore del centro di contrasto alle malattie infettive negli Stati Uniti e sostanzialmente questa formula ci dice qual è la probabilità di essere contagiati quando siamo nello stesso pixel di uno che ha già preso la malattia e questo dipende dal tempo che ci stiamo e anche dipende da alcune condizioni ad esempio la velocità di trasferimento della massa virale tra l'infetto e le altre persone questa velocità dipende se siamo all'aperto se siamo al chiuso se c'è vento oppure no e poi anche dipende dalla variante del virus dipende dalla variante del virus qui vedete una variante recente quando noi siamo partiti la regola di Brooks parlava di 15 minuti per un pixel al chiuso e oggi come oggi questa è una versione più recente del virus che è diventato più abile quindi con meno massa virale causa già trasferita causa già il contagio e pertanto il tempo che è richiesto di contatto che è richiesto per trasmettere questo contagio è molto inferiore comunque noi volevamo mettere insieme questi tre elementi e attraverso questi tre elementi sapendo dove le persone andavano per quanto tempo rimanevano insieme all'interno dei pixel volevamo prevedere quanto sarebbe stato il trasferimento di massa virale e quindi anche collettivamente quale sarebbe stato l'impatto dal punto di vista del numero di persone contagiate e ci siamo messi a lavorare in questa direzione finché non ci è venuto in mente che in fondo i dati sulla mobilità delle persone non sono dati qualunque sapere dove io mi trovo e quanto tempo ci sono rimasto in vari momenti della giornata è un dato che è abbastanza sensibile è vero che gli operatori di rete mobile cioè i fornitori dei servizi lo sanno ma noi gliele abbiamo rivelato solo per poter gestire la rete anche le forze dell'ordine possono saperlo ma ci vuole l'autorizzazione di un magistrato ci vuole il motivo per chiederlo quindi passare ad un monitoraggio generalizzato della mobilità delle persone anche se ci avesse dato un modello molto efficace beh ci siamo fermati un attimo e abbiamo deciso di fare in modo un pochino diverso qui quello che vedete quello che abbiamo fatto è stato innanzitutto di usare i dati non collegati cioè di prendere i dati e di dimenticarci anzi non farci nemmeno dire dagli operatori telefonici l'identificatore a cui appartenevano sappiamo che c'erano dei telefonini nelle varie celle ma non sappiamo se era lo stesso da un evento con il successivo e poi abbiamo usato questi dati non collegati non per seguirli ma per tarare degli utenti simulati questi utenti quindi abbiamo un modello che genera degli utenti simulati che però statisticamente si comportano come quelli veri e udite udite le previsioni di contagio fatte con questo modello sono di ottima qualità tanto è vero che adesso lo utilizziamo per stimare il rischio che deriva dagli arrivi trasfrontalieri cioè quando atterra un aereo o quando arriva una nave ecco le persone che sono a bordo si aggiungono e il modello di mobilità mi dice qual è il rischio che se queste persone fossero infette quanti altri casi potrebbero provocare nel giro di una settimana nel giro di 15 giorni ora la storia ve l'ho raccontata non tanto per attirare l'attenzione sul modello quanto per attirare l'attenzione sulla morale e qual è la morale? la morale è che noi abbiamo il diritto di domandarci se l'informazione che trasferiamo a chi deve applicare dei modelli anche utili anche utili a tutti se l'informazione che noi trasferiamo è la quantità adeguata esiste un principio di minimalità che ci dice che l'informazione che dovremmo trasferire è quella strettamente necessaria per fare la cosa che ci viene che ci viene promessa ed è molto importante che noi sappiamo di questo principio e sappiamo anche che a volte i dati non collegati sono più che sufficienti i dati generati sono più che sufficienti se quella app che abbiamo magari salute quella app salute bellezza che abbiamo nel nostro telefonino raccoglie dati sul nostro comportamento e ci chiede il permesso di condividerli in forma anonima la differenza tra l'anonimato e il dato non collegato spero che dopo stasera molti che non si occupano di cose tecnologiche ce l'abbiano in mente e come possiamo fare per trasferire ecco qui vedete il nostro modello come popola i contagi sulla base di uno sbarco da parte di un gruppo di persone ma come facciamo noi a chiedere esplicitamente che venga rispettato il principio di minimalità e lo possiamo fare perché le app che noi utilizziamo che abbiamo nei nostri cellulari hanno tutte per normative una politica di gestione dei dati e questa politica può essere vista a disposizione nostra per poterla consultare e basterebbe che noi chiedessimo di consultarla oppure che quando ci viene proposta dall'applicazione non cliccassimo accetto 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 ma semplicemente lasciassimo passare un po' di tempo tra un click e il successivo e vedreste che qualche modello di intelligenza artificiale del fornitore dell'applicazione si accorgerebbe che gli utenti stanno leggendo e sono attenti alle condizioni con cui viene fornita l'informazione per consentire al modello di funzionare il controllo sull'informazione che forniamo anche per una causa giusta deve rimanere con la fonte non dimentichiamolo mai grazie 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 grazie